ma come sono contenta che sei venuta a trovarmi ma figurati terry è un vero piacere e poi da quanto tempo era che non ci vedevamo ma sarà dal liceo un sacco di tempo si è vero hai ragione comunque vedo che ti sei sistemata benissimo hai anche delle persone che lavorano per te sta meglio di te sì sì lavorano è più il tempo che passa ciondolare per casa quello lì che altro però sai mi fa un po pena ma beh ma tu invece ti sei sposata vero è un uomo eccezionale con lui non mi annoio mai fa l'impiegato di un'importante azienda è ma è tuo no immagino non sia neanche il tuo no e questo qui ma non l'ho mai visto in casa questo non è l'iphone se si hai ragione wow il design di questo smartphone è pazzesco così come questa colorazione product red realizzato in alluminio e vetro resistente a un display in retina hd da 4,7 pollici ed è lcd widescreen multitouch con tecnologia ips la risoluzione è di 1334 per 750 pixel a 326 ppi il rivestimento poi olio repellente e a prova d'impronte iphone se al chip di iphone 11 pro la 13 bionic questo è un modello con capacità da 64 gigabyte ma è disponibile anche nelle versioni da 128 gigabyte e 256 gigabyte grazie alla dual sim con tecnologia e sim si può usare il proprio numero personale quello di lavoro sullo stesso iphone iphone se presenta una fotocamera con obiettivo grand'angolo da 12 megapixel e una fotocamera frontale da 7 megapixel sì questo iphone scatta foto da 12 e 7 megapixel ma filma in 4k filmare in 4k vuol dire avere video quattro volte più dettagliati di quelli in hd da 1080 pixel anche nelle zone più illuminate o in ombra grazie alla gamma dinamica estesa per sbloccare iphone se c'è touch id con il quale è possibile anche fare login tra le app usarlo con apple pay per pagare un caffè scaricare un gioco o acquistare online un paio di scarpe tutto senza nemmeno sfiorare la carta di credito iphone se è resistente all'acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti non temi liquidi come caffè e tè o altre bevande e nemmeno la polvere con questo smartphone è possibile guardare fino a 13 ore di video con una sola carica in caso di emergenza basta appoggiare il telefono su una base di ricarica wireless si può usare un alimentatore da 18 watt compatibile con la ricarica veloce per riportare la batteria da zero al 50 per cento in appena 30 minuti con iphone se si hanno tutte le funzioni più recenti di ios e anche quelle che verranno si può godere della modalità scura i comandi rapidi di siri e la nuova app foto e in futuro approfittare delle ultime novità in fatto di funzioni e sicurezza potete trovare iphone se su bpm power puntocom cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione questo modello è disponibile anche in color nero e bianco se non l'avete ancora fatto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale youtube mettere mi piace alla pagina facebook e seguirci su instagram ma ecco che ricomincia dai rispondi no non mi oso signora teresa ha visto un telefono amedeo lei e silvia è una mia cara amica del liceo lui è amedeo lui mi aiuta a fare cosa cosa non posso credere che tu non mi abbia detto niente da quanto tempo lavori per lei da più di un anno cosa il tuo lavoro da impiegato era una bugia no mi hanno licenziato e ho dovuto fare qualcosa per un lavoro ben pagato ancora stento a crederci che tu lavori per terry andiamo carlo fatto solo per noi e poi tu vuoi dirmi che non hai nessun segreto ma come ti viene in mente no certo che no potrei mai perdonarmi cara forse e già che ci sei da oggi inizia a pulire anche casa nostra